Assessore Carrara, oggi si è nuovamente sottoscritto questo importante accordo di collaborazione con l'Aeroclub e la protezione civile, un accordo nato con lei, insomma sotto la sua guida di questo assessorato e che forse, chissà, sarà l'ultimo. Innanzitutto è un onore essere qui ancora oggi e rappresentare l'intera comunità bergamasca nel siglare questo importante protocollo che oramai arriva al suo rinnovo plurimo. È un'iniziativa di quelle belle, di quelle che vedono una perfetta collaborazione tra un'associazione come quella dell'Aeroclub Bergamo attraverso la sua direzione, quindi il suo presidente, il suo vicepresidente, i piloti e i soci e che corrono in soccorso, se così lo vogliamo definire, di quelle che sono le esigenze di sicurezza che la nostra provincia ha. Da qui nacque l'idea di creazione appunto di questo protocollo. Come si sviluppa? In modo molto semplice i piloti che devono effettuare un tot numero di ore l'anno per mantenere operativo il loro brevetto, all'interno di queste ore si mettono a disposizione della protezione civile bergamasca sotto l'attento controllo da parte del corpo forestale dello Stato, per esempio, che ha insegnato loro a riconoscere quelle che sono alcune situazioni di pericolo come incendi piuttosto che altre realtà che dovrebbero far suonare quel famoso campanello d'allarme che a loro volta comunicano a terra per informare tempestivamente quello che è la macchina della protezione civile su quella che potrebbe essere una importante necessità. Quindi a loro va il mio grazie, a loro va il grazie dell'intera comunità bergamasca. Io non credo che con la chiusura dell'ente provincia verranno meno buone prassi di questo tipo. Ovvio, la cosa mi preoccupa, mi preoccupa non poco, però sarà mia premura tenermi informato per far sì che l'anno prossimo non ci sia più un assessore a firmare, ma ci sia comunque qualcuno, qualsiasi persona essa sia, per conto di qualsiasi ente simile a quella che sarà la nuova provincia che voglia mettere un po' di inchiostro su quel pezzo di carta. Assessore, oggi si è rinnovato questo importante protocollo di collaborazione tra l'Aeroclub e la provincia di Bergamo, probabilmente l'ultimo visto il destino che incombe sulla provincia, ma forse l'ultimo anche per quanto riguarda la regione. Sì, purtroppo abbiamo visto che quello che accadrà alle province, anche se per quanto riguarda la regione Lombardia c'è la volontà di mantenere un ente di secondo livello e di mantenere le funzioni di protezione civile sicuramente a livello provinciale, dove sicuramente il mondo del volontariato avrà una rilevanza ancora più importante, visto che grazie ai nostri assessori e grazie al personale tecnico presente nelle province siamo riusciti a creare delle vere proprie organizzazioni con una struttura ben importante all'interno appunto dell'interregione. Tutto ciò però potrà essere realizzato solo se le funzioni di protezione civile continueranno a restare anche alle regioni. Purtroppo attraverso le modifiche del titolo quinto che sono già state approvate dal governo si prevede che la funzione della protezione civile non resti materia concorrente ma diventi materia esclusiva dello Stato e in tal caso ovviamente tutta la struttura, tutta l'organizzazione, tutto il mondo della protezione civile è a grande rischio. È un problema evidente che anche oggi in commissione speciale, quindi la commissione alla quale partecipano tutti gli assessori di protezione civile di tutte le regioni d'Italia abbiamo sollecitato e sollevato. Noi continueremo con la presentazione di emendamenti ma oltre alle emendamenti io ho ribadito che è necessario convocare al più presto una riunione dove è importante incontrare la parte politica e quindi o il Presidente del Consiglio o il Sottosegretario del Rio e ovviamente anche la parte tecnica con il Capodipartimento Gabrielli.